Milano Pavia News, edizione Pavia di mercoledì 27 gennaio. Buonasera e ben ritrovati. Andiamo a vedere insieme i titoli del nostro sommario. La procura di Pavia ha scoperto una maxitruffa sulle rinnovabili per intascare incentivi statali nei guai l'azienda Lomellina Biolevano, sequestrati beni per oltre 140 milioni di euro. E sulla maxitruffa delle rinnovabili interviene anche l'associazione Futuro Sostenibile. Da anni denunciavamo che l'impianto era troppo grande per essere alimentato solo da legna del posto. Potrebbero presto partire le prime multe per le discariche abusive che stanno spuntando sulla provinciale Tramortara e Olevano, sul caso sta indagando la polizia locale. Io scelgo il Marazzani e l'hashtag di un'iniziativa che sta diventando virale in rete. Dopo gli attacchi hacker i genitori degli alunni hanno prodotto dei video per presentare la scuola. Il comune di Pavia ha celebrato oggi la giornata della memoria con una cerimonia Palazzo Mezzabarba, consegnate le medaglie ai parenti dei deportati nei lager nazisti. Questi dunque i titoli della giornata per la nostra edizione Pavia e partiamo con la cronaca, lo avete sentito dai titoli, una maxi operazione della procura che ha coinvolto la ditta Biolevano, una centrale a biomasse alimentata a legna. Sostanzialmente questa ditta falsificava le bolle per mascherare la reale provenienza del legno, intascare gli incentivi statali, si tratta di un sequestro, quello portato a termine dalla Guardia di Finanza di Pavia, da oltre 140 milioni di euro. Ermanno Bidone. Dovevano ridurre l'inquinamento fornendo al mondo energia pulita, bruciando legname o scarti vegetali a chilometro zero e invece avrebbero architettato un'immensa truffa per intascarsi incentivi statali bruciando legna comprata a poco prezzo da ogni dove, tanto il vero business erano i contributi pubblici. Così i gestori della centrale elettrica a biomasse Biolevano di Olevano Lomellina negli ultimi cinque anni si sarebbero intascati legalmente qualcosa come 143 milioni di euro. È con queste accuse che la procura di Pavia ha dato il via a un'indagine sfociata alle prime luci dell'alba di mercoledì in un blizza che ha portato a 11 misure cautelari, fra cui sei arresti e cinque obblighi di firma e al sequestro di beni per oltre 140 milioni, fra rapporti bancari, quote societarie, mezzi, terreni e ville a Milano, Lecco e Portobello di Gallura in Sardegna, oltre all'intera centrale stessa. Tra gli indagati anche Pietro Franco Tali, fino al 2012 amministratore delegato del colosso di Stato Saipem. Il manager 71enne, secondo l'accusa, sarebbe il regista di tutta questa maxifrode iniziata poco dopo che la centrale a biomasse costruita nel 2009 era entrata a pieno regime. Questo nonostante l'uomo avesse ceduto le quote della Maire Technimont, società della Galassia Eni, di cui Tali era in pratica il numero 2 e proprietaria di fatto della Biolevano. Tali, secondo l'accusa, era in pratica la maggior azionista occulto della società. Fra le persone sottoposte a misura cautelare ci sono inoltre alcuni noti imprenditori di Vigevano e del milanese. Sono accusati di associazione a delinquere, truffa gravata ai danni dello Stato e false fatturazioni. Per capire l'entità di questa vicenda, basti dire che per ogni milione di euro di energia venduta, la Biolevano ne riceveva tre di contributi dal gestore dei servizi elettrici nazionale. Un incentivo enorme possibile solo perché l'azienda si era impegnata ad utilizzare legname tracciato, certificato e proveniente da zone limitrofe all'impianto, ma l'impegno era rimasto sulla carta, poiché, sempre secondo la procura, attraverso una fitta rete di complici, fra cui anche agronomi, i vertici dell'azienda acquistavano qualunque tipo di legname, ovunque reperibile, a volte anche dall'estero, purché al minor prezzo possibile, come testimoniato da intercettazioni telefoniche come questa. Assicuratasi la materia prima a un prezzo nettamente inferiore ai propri competitors, per far risultare il legname di provenienza locale e tracciato, ai vertici della Biolevano, secondo l'accusa, bastava falsificare le carte, cioè i documenti di trasporto e le fatture. E lo avete sentito, sono state 11 le misure cautelari scattate nelle scorse ore, sono partite più di 50 perquisizioni in diverse regioni italiane. Una truffa, hanno spiegato gli investigatori, e ovviamente la procura, che andava a colpire soprattutto i cittadini, perché i fondi che riceveva la Biolevano erano i fondi che paghiamo tutti noi. Vediamo. Più che una truffa ai danni dello Stato, questa è una truffa ai danni del cittadino, perché i contributi che vengono destinati alla produzione di energie rinnovabili vengono pagati in bolletta da tutti gli utenti. Così il procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, ha definito la vicenda scoperta ad Olevano Lomellina. La truffa ai danni del cittadino, perché l'incentivo viene prelevato nelle bollette di tutti noi quando paghiamo la bolletta elettrica. Quindi la cosa, cioè non è la solita truffa ai danni dello Stato, è una truffa diretta nei confronti del cittadino. Ci muoviamo nell'ambito dell'esecuzione del protocollo di Chioto. Questa legge ha le sue radici nel protocollo di Chioto. Quindi questo è il campo in cui si muovono questi incentivi e questa particolare produzione di energie pulite. Quest'indagine nasce da un'attività di input della sezione di poesia giudiziaria della procura, sviluppata poi dalla compagnia della Guardia di Finanza di Pavia. quello che preme lumeggiare è essenzialmente due elementi. Il primo riguarda il fatto che questa normativa viene introdotta per ridurre l'effetto dei gas serra e quindi incentivare le energie rinnovabili. Di qui, al di là dei tecnicismi che sono stati ben esposti precedentemente, va sottolineato che quello che si voleva incentivare era un uso razionale della silvicoltura e un impiego dei combustibili alternativi agli idrocarburi. L'altro aspetto è che gli incentivi, come ha detto il procuratore, sono poi coperti con risorse che vengono ricavate dalle nostre bollette elettriche. Il sistema era un sistema semplice ma estremamente efficace perché per ogni milione di euro di profitto della società di Olevano vi erano 3 milioni di contributi. Quindi capite la proporzione. Proprio su quella centrale a Cipato, sulla centrale di Olevano, si era esposta in prima battuta proprio dall'inizio della sua costruzione l'Associazione Futuro Sostenibile in Lomellina. Ovviamente i vertici dell'associazione adesso spiegano di non essere poi troppo sorpresi da questo blitz che ha portato alla luce questa maxitruffa da oltre 140 milioni perché spiegano che si trattava di una centrale fin dall'inizio troppo grande per poter bruciare solo legna del posto, cioè quella proveniente da un raggio di 70 chilometri da Olevano. Abbiamo sempre avuto il sospetto, l'abbiamo denunciato più volte, che l'approvvigionamento delle piopelle non avvenisse nei 70 chilometri di legge. Per cui oggi non siamo stupiti di quello che è successo. Futuro Sostenibile in Lomellina, oggi una delle realtà ambientaliste più importanti del territorio, nacque nel 2008 proprio per contrastare l'autorizzazione alla centrale di Olevano, all'epoca la più grande d'Italia fra quelle a Cipato. Negli elementi portati alla luce nell'inchiesta della procura di Pavia riecheggiano molte delle denunce portate avanti dall'associazione, a cominciare dall'accusa fondamentale che veniva mossa alla centrale. Un impianto troppo grande per essere alimentato solo con legna locale proveniente da un raggio di 70 chilometri, così come previsto dalle norme per ottenere gli incentivi per le energie rinnovabili. Una tesi che Futuro Sostenibile in Lomellina era convinta di aver dimostrato vincendo la sentenza al TAR del 2010 contro l'autorizzazione alla costruzione della centrale, sentenza ribaltata qualche mese dopo dal Consiglio di Stato. Vennero tolte tutte le autorizzazioni dal TAR a cui si fece ricorso e poi in una sola seduta del Consiglio di Stato a cui fece ricorso Mary Techmon ottenne invece l'autorizzazione a costruirla. Poi venne successivamente autorizzata per bruciare 180.000 tonnellate di pioppelle. Noi abbiamo sempre contestato il fatto dei 70 chilometri, cioè l'abbiamo fatto presente sia all'inizio quando venne presentato il progetto facendo fare degli studi proprio dagli agronomi che rilevarono che non c'erano nei 70 chilometri 180.000 tonnellate all'anno di pioppelle. Negli anni gli ambientalisti avevano continuato a denunciare la situazione, ora rincarano la dose alzando dubbi non solo sulla provenienza del legname utilizzato per alimentare la centrale ma anche sulla tipologia e parlando di una presa in giro per i cittadini che pagano gli incentivi per le rinnovabili attraverso la bolletta dell'energia elettrica. Quando si vedevano questi camion dicevamo ma come fanno ad essere pioppelle di due anni e mezzo se questi hanno dei tronchi così grossi, cioè ci sembrava molto strano, anche proprio come materiale. È un impatto non solo ambientale, è stata anche una presa in giro nei confronti dei cittadini. Voltiamo la pagina, adesso apriamo la pagina ovviamente dedicata ai dati sanitari relativi al Covid come sempre con la grafica diffusa da Regione Lombardia. I nuovi casi di positività al Covid nella nostra regione sono 2.293 nelle ultime 24 ore di cui 109 debolmente positivi, a fronte di oltre 44.800 tamponi di cui 32.866 molecolari e 11.943 antigenici. Il rapporto tra tamponi e positivi si assesta al 5,1%, si registrano purtroppo 62 nuovi decessi, calano i ricoveri in terapia intensiva, sono 15 in meno rispetto alla giornata di martedì ma crescono negli altri reparti, sono 43 in più per un totale di 3.573 ricoverati in tutte le strutture ospedaliere lombarde. I casi per la provincia di Pavia, i nuovi casi sono 115, adesso andiamo anche a dare un'occhiata a quelle che sono le vaccinazioni proprio in Lombardia che salgono a quota 245.100 su un totale di 356.130 dosi consegnate al rapporto del 68,8%. In Italia le somministrazioni superano quota un milione e mezzo per un totale di 2.127.255 dosi consegnate che fa assestare il dato, la percentuale, a 74,1%. Voltiamo pagina perché vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi delle discariche e dell'abbandono di rifiuti lungo la provinciale tra Olevano e Mortara. Adesso c'è già una novità, ci sono già degli sviluppi nell'indagine portata avanti dalla polizia locale. Di Mortara potrebbero già arrivare infatti le prime multe perché sarebbero stati individuati alcuni responsabili proprio dell'abbandono dei rifiuti. Sentiamo Paolo Barni. Potrebbero presto partire le prime multe per le discariche abusive che stanno proliferando sulla provinciale 57 tra Mortara e Olevano. Dopo il nostro servizio in cui rilanciavamo l'allarme lanciato dal PD di Olevano che ha scritto una lettera al prefetto chiedendo un intervento, sono arrivate una serie di precisazioni da parte del comune di Mortara. In territorio dove sono avvenuti gli abbandoni infatti è dentro i confini della città dell'oca. Le competenze però non sono del comune, in particolare come risulta dalle visure catastali e la discarica abusiva più grande, quella nei pressi dell'ex passaggio a livello e su un terreno di proprietà delle ferrovie cui spetterebbe l'onere della pulizia. Più difficile è stabilire chi abbia il compito di rimuovere i rifiuti gettati nei fossi. Lì sarebbero da dirimere le competenze tra i proprietari dei terreni agricoli e la provincia di Pavia, titolare della strada. Tutto questo naturalmente a meno che non si trovino i responsabili degli abbandoni. In quel caso sarebbero loro a dover ripulire oltre a pagare pesanti multe. In questo senso ci sono delle novità. Al comando di polizia locale di Mortara infatti sono in corso delle indagini che potrebbero portare presto a esiti significativi. Pare infatti che siano stati trovati tra i rifiuti degli elementi che potrebbero ricondurre alla loro provenienza. Sarebbero stati addirittura il sindaco Marco Facchinotti e l'assessore alla sicurezza Luigi Granelli a effettuare la scoperta nello scorso fine settimana, mettendosi a rovistare nel cumulo vicino al passaggio a livello alla ricerca di indizi e a segnalare la cosa agli agenti di polizia locale che avrebbero quindi fatto scattare gli accertamenti di rito. Presto potrebbero esserci sviluppi. Almeno alcuni dei responsabili dello scempio che si sta perpetrando sulla provinciale Mortara o Levano potrebbero non rimanere impuniti. E proprio per contrastare l'abbandono di rifiuti la comune di Pavia invece ha avviato un progetto per installare 20 fototrappole sulle strade della città, ovviamente le strade di periferia dove sono più comuni questi fenomeni, le posizioni sono ovviamente top secret ma serviranno per andare ad individuare tutti quei cittadini che non rispettano le regole, ovviamente buttano i rifiuti dove capita, per loro sono in arrivo molte salate. Mario Fortunato. Più decoro in città e battaglia senza quartiere all'abbandono di rifiuti all'interno del capoluogo. Uno dei punti principali del programma di mandato del sindaco Fabrizio Fracassi trova finalmente attuazione pratica. Dopo un lungo lavoro preparatorio, nei giorni scorsi infatti il Mezzabarba ha fatto partire ufficialmente il progetto fototrappole contro l'abbandono degli ingombranti. Ne sono state posizionate 20 in tutto nelle vie in cui il fenomeno è maggiormente radicato. La collocazione è ovviamente top secret visto che le fototrappole dovranno cogliere in flagranza i trasgressori. Sono state inoltre posizionate due sbarre per impedire l'accesso ai furgoni in alcune aree soggette all'abbandono degli ingombranti in città. Ogni mese gli agenti della polizia locale dovranno fornire un report dettagliato all'assessore al decoro COC con tutte le trasgressioni documentate. Le multe sono piuttosto salate e vanno da un minimo di 300 ad un massimo di 3.000 euro. In caso di rifiuti pericolosi scatta inoltre la denuncia penale. Sono due i casi principali di abbandono riscontrati nel capoluogo, lungo le rive del Ticino e nelle periferie, in particolar modo nei pressi delle campane del vetro e dei punti di raccolta degli abiti usati. Zone facilmente accessibili e non controllate con particolare attenzione, almeno fino alla partenza, nel progetto fototrappole. Passiamo alla cronaca a Voghera. I carabinieri nel corso di un'operazione di servizio di controllo del territorio hanno pizzicato nel giro di poche ore tre automobilisti senza patente. Alcuni avevano la patente sospesa, altri addirittura non l'avevano proprio nemmeno conseguita. Sono partite ovviamente le verifiche del caso e anche per questa vicenda gli automobilisti ora rischiano sanzioni pesanti e addirittura denunce penali. Armano Bidone. Intra in giro senza patente o perché sospesa o revocata o perché mai conseguita. È quanto scoperto dai carabinieri di Voghera che martedì sera, mentre erano impegnati nei consueti controlli sul rispetto delle norme anti-covid, si sono imbattuti in poche ore in ben tre soggetti alla guida senza averne alcun titolo. Il primo ad essere fermato in via Kennedy è stato un uomo originario del Camerun, residente ad Alessandria. Alla richiesta dei documenti ha risposto esibendo una patente che poi però, dopo gli immediati accertamenti, è risultata contraffatta. L'uomo è stato quindi denunciato per guida senza patente e documenti falsi, oltre ad essere sanzionato per la normativa anti-covid, oltre che dal comune di residenza si trovava infatti in un'altra regione. Anche il secondo automobilista senza patente proveniva dal Piemonte, ma più precisamente da Ponte Curone. Il trentenne è stato fermato nei pressi di Riva Nazzano Terme a bordo di un autocarro. Oltre ad essere fuori regione come il camerunense, ad essere senza patente perché era evocata, era completamente ubriaco. Anche per lui inevitabilmente è scattata una raffica di sanzioni. Pochi minuti più tardi i carabinieri sono entrati in azione ancora a Voghera nei pressi di Piazza San Bovo, fermando il terzo automobilista senza patente. In questo caso al volante c'era un uomo italiano di 33 anni. La sua patente di guida era stata da tempo sospesa per mancanza di requisiti psicofisici. Voltiamo pagina. Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato degli attacchi degli hacker all'open day dell'Istituto Marazzani, attacchi hacker che avevano impedito di proprio far partire questo open day con scene anche piuttosto brutte durante i collegamenti online. Adesso per sostenere la scuola, per dare un segnale, i genitori degli alunni del Marazzani hanno realizzato dei video per presentare allora la scuola. Paolo Barri. L'open day delle scuole elementari Marazzani di Vigevano non si è potuto fare, né in presenza per le normative Covid, né a distanza perché per ben due volte gli hacker hanno attaccato la piattaforma a cui si erano collegati i genitori dei futuri alunni. Sono stati quindi i genitori dei bambini che già frequentano il plesso di via Gramsci a produrre dei video per presentare la scuola. Io scelgo il Marazzani e l'hashtag di un'iniziativa che sta diventando virale in rete. Dopo quello che è accaduto è nata spontanea l'idea comunque di realizzare qualcosa a supporto della scuola. Quello che ci è venuto in mente, anche data l'impossibilità di riunirsi fisicamente, è stata quella di realizzare ognuno di noi, chi era disponibile a farlo, un piccolo video dove dicevamo cosa pensiamo di questa scuola, della scuola Marazzani. La testimonianza dei genitori di questo istituto è stata molto importante. Abbiamo questo comitato genitori sempre molto attivo e vicino a quello che è la nostra filosofia di scuola e davanti a questa situazione si sono dimostrati creativi e importanti. Per realizzare il video i genitori dei bambini del Marazzani si sono fatti aiutare dagli studenti dell'Omodio di Mortara in un'inedita collaborazione tra una scuola elementare e un istituto superiore di due diverse città. Abbiamo ognuno guardato i video ricevuti dai genitori dell'istituto Marazzani e li abbiamo selezionati, tagliati e poi montati insieme e abbiamo deciso di aggiungere del testo per esaltare le parole che dicevano nel video. Complimenti ai genitori, al comitato genitori per questa iniziativa lodevole e grazie anche ai nostri ragazzi dell'Omodio perché si sono resi disponibili non solo per aiutare la loro scuola ma anche per aiutare un'altra scuola che in questo momento aveva bisogno. Dopo il rallentamento delle attività a causa del lockdown l'iniziativa è stata anche un modo per ridare l'infa al comitato genitori del Marazzani già al lavoro su altri progetti. Io scelgo il Marazzani. Davvero una bella iniziativa. Adesso ci spostiamo però a Pavia, apriamo la pagina dedicata alla giornata della memoria. A Palazzo Mezzabarba nella sede del Comune si è tenuta la celebrazione ufficiale ovviamente nel rispetto dell'enorme Covid durante la quale sono state consegnate anche le medaglie ai parenti dei familiari deportati nei campi di concentramento nazisti. Mario Fortunato. Una cerimonia in forma ridotta ma non meno partecipata per ricordare le vittime della Shoah. Il giorno della memoria nella sala consigliare di Palazzo Mezzabarba è stata l'occasione per tornare a riflettere sui giorni drammatici del nazismo con la deportazione di tantissimi cittadini. Particolarmente sentita è stata la partecipazione di Pietro Sacchi e Andrea Pelle, parenti di due deportati pavesi. Sono contento per rendere omaggio alla memoria di mio padre, che se lo merita questa medaglia d'odore, perché è arrestato, portato in Germania, lavorato come deportato lavoratore coatto e il 18 aprile del 1945, mentre stava tirando in mezzo ai detriti di una scuola bombardata, stava cercando di tirar fuori se c'erano i bambini morti, è tornato un aereo indietro, ha bombardato e una scheggia l'ha colpito alla spalla e l'ha portato all'ospedale di Sigma Ringen ed è tornato dopo che sono arrivati, che a fine aprile sono arrivati gli americani, l'hanno tirato fuori, è tornato nell'agosto del 1945. Per me è un onore ricevere questo riconoscimento che ovviamente mio nonno è stato un deportato in guerra e quindi fa molto piacere ricordarlo oggi e anche ogni anno, ovviamente penso sempre a quello che lui ha passato. Il pensiero di questa giornata è essere finalmente con la possibilità di rappresentare gli studenti parlando di qualcosa che attiene sicuramente alla società e al ruolo che avremo una volta usciti dalla scuola, ma anche a quello che stiamo facendo in questo momento. Il mio discorso parlerà di quanto nel 27 gennaio e nei fatti orribili della Shoah ci sia anche poi un fiorire di filosofia, di cultura, di arte, di musica che è quello che poi andiamo a studiare a scuola e che attraverso il ricordo, la memoria di eventi tragici del genere ci permette però anche di progredire. La giornata del 27 gennaio tocca molto il tema studentesco perché si vedono molte analogie, fondamentalmente si parla di discriminazione raziale e anche oggi vediamo tanti casi in cui appunto c'è tanta discriminazione e proprio l'obiettivo anche di questa giornata è porre fine a questa cosa. Essere discriminati per il colore della pelle è veramente una cosa bassa che va soltanto a seminare odio e rabbia e come dirò nel discorso appunto la Shoah è un tema veramente attuale da questo punto di vista perché quante volte vediamo episodi di discriminazione a partire dalla discriminazione raziale per il colore della pelle, l'odio ideologico. E nell'ambito delle celebrazioni per la giornata della memoria il prefetto di Pavia, Rosalba Scialla che era presente anche a Palazzo Mezzabarba, si è recata a Vigevano per consegnare una medaglia d'oro dedicata a Oreste Giannuzzi, bersagliere vigevanese deportato in Westfalia dopo essere stato catturato mentre combatteva in Jugoslavia. La vicenda di Oreste Giannuzzi che rifiutò di arruolarsi nell'esercito tedesco nonostante le forti pressioni ricevute dai suoi carcerieri sopravvisse alla terribile esperienza del campo che ne segnò comunque per sempre la vita. La sua storia è stata recentemente ricostruita dalle opere di ricerca portate avanti dal nipote il quale ha ricevuto la medaglia d'oro alla memoria delle mani del prefetto e del sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa. A Bastida Pancarana invece inoltre Pone, il piccolo comune di Bastida Pancarana, sono state lette alcune riflessioni da parte degli alunni della scuola comunale. Il comune ha voluto organizzare questa cerimonia per ricordare la tragedia della Shoah e assieme al discorso del sindaco Renata Martinotti i pensieri proprio degli alunni delle scuole saranno raccolti in un libro che sarà pubblicato a breve dal titolo La Shoah in tempo di Covid-19 anno 2021. Chiudiamo con una notizia di politica perché giovedì sera in comune a Pavia si terrà un consiglio dopo gli ultimi burrascosi sui casi asili ovviamente dedicato alle interpellanze sulla città. Sentiamo. Torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Pavia dopo la seduta calda dedicata al tema dell'esternalizzazione degli asili con l'odio e muzio. Giovedì sera alle 20.30 attraverso la nuova piattaforma digitale si terrà una seduta dai toni decisamente più soft rispetto a quelli di una settimana fa. Al centro del dibattito non vi saranno infatti delibere di particolare rilevanza amministrativa e allora protagonisti della lunga serata in streaming saranno i consiglieri comunali di maggioranza ed opposizione con le loro domande agli assessori su problematiche specifiche che toccano il capoluogo. L'unica delibera iscritta all'ordine del giorno riguarda infatti il bilancio di previsione annuale 2021 ed il piano di programma annuale delle attività di Apolf, l'agenzia provinciale per l'orientamento, il lavoro e la formazione. Per il resto il Consiglio Comunale avrà l'obiettivo di smaltire tutte quelle instant question rimaste in coda alla discussione degli ultimi mesi e divenute nel frattempo interpellanze. Sono 23 in totale, si tornerà a parlare nello specifico della situazione riguardante il ponte di via Ghisoni che tanto ha fatto discutere nell'ultimo periodo grazie all'interpellanza presentata dal consigliere comunale del PD Pietro Alongi. Attenzione oltre alla situazione economica del capoluogo con chiarimenti rispetto al bando contributi alle imprese del consigliere del gruppo misto Rodolfo Faldini. Era l'ultimo servizio, prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento in prima serata con Sapori di Lombardia condotto ovviamente da Stefano Calvi. Grazie come sempre per averci seguito, una buona serata a tutti. Grazie a tutti.